Oggi è una cosa un po' particolare, vedete Damiano Ferrari che è il relatore che oggi ci accompagnerà nel tema che adesso vi dirò, buongiorno Damiano. Entriamo nel merito adesso di far vedere alcune applicazioni di utilizzare diversi incentivi sullo stesso tipo di intervento e di efficienza energetica e in caso di conto termico certificati bianchi cosa si intende precisamente? Allora, esempio al contrario, detrazioni su detrazioni interventi.